Allora, oggi abbiamo desiderio di preparare il tipico pizzo salentino utilizzando i seguenti ingredienti, 300 grammi di farina di semola di grano duro e poi una aggiunta di salsa di pomodoro, io sto usando questa che ha dentro alcune verdure ma va benissimo una salsa normale, 70-80 grammi di passata di polpa di pomodoro e poi portare a un 580 grammi complessivo con la bilancia. Quindi dobbiamo riprodurre una idratazione al 80% della semola tenendo presente che la polpa contiene quasi interamente acqua. Dopo aver aggiunto anche il lievito, un paio di grammi di lievito andranno benissimo, lievito secco, 3-4 grammi di lievito fresco se al contrario avete quello. Dopo un primo impasto questo è il risultato, ma nella variante che io intendo fare andrò ad aggiungere alla fine dei pomodorini datterini perché voglio avere proprio la buccia in grano e andrò ad aggiungere triturata perché i pizzicugliesi hanno il peperoncino, una patatina hot chip ben finemente triturata. Vediamo cosa ne uscirà. Allora lo stesso mio primo impasto, l'idratazione per la semola è perfetta perché appunto non è troppo appiccicoso, ora bisogna lavorarlo in modo tale da portare alla formazione della maglia glutinica. Quindi andiamo a rimboccarci le maniche e a lavorarlo un attimo. Io però prima di procedere, ecco vorrei aprire la patatina più piccante del mondo per triturarla finemente e metterla dentro. Quindi vi faccio vedere in diretta quello che trovo dentro, ecco spostiamo la telecamera. Abbiamo degli sticker, questa cosa di solito ai più giovani piace particolarmente. Gli sticker servono per testimoniare di averla mangiata, ma io non la mangerò direttamente, la userò come ingrediente. Questa è la patatina che si trova ben protetta in una confezione. Abbiamo poi uno tuscolo e le istruzioni. Sostanzialmente dice sei in grado di maneggiare questa patatina e mangiarla? E poi dà dei consigli. Dice che mangiare questa patatina ti darà un'esperienza indimenticabile, potrei andarne fiero, eccetera eccetera. Allora, perché ho scelto di comprare questa patatina qua? Perché io sono sempre stato battito di patatine nelle fritte e di caperoncino. Comunque, vedete, metto il guanto in potazione e la vado ad aprire con un tagliere. Farò, anzi qui sopra direttamente, farò in mille pezzi la patatina e poi la cucinerò insieme al resto dell'impasto. Una patatina super piccante. Speriamo di non doverne ne pentire. Vediamo com'è. Intanto tagliamola. Vado a prendere un altro guanto. Allora, iniziamo così, piccole briciole. A me del challenge interessa relativamente, però essendo io un amante piccante, la voglio provare e quindi la metterò come ingrediente. Sapete, i pezzi salentini sono dei panini alla fine, che però hanno la caratteristica di contenere della cipolla, che ho già preparato stufata, e del pomodoro. Delle olive nere, se ci sono. Io al momento non ce l'ho. Vediamo se nel corso del video uscirò per comprarle. Oppure se ne farò almeno. Probabile, perché siamo quasi ora di pranzo, quindi dovrò interrompere per pranzare. Ecco qua, ci siamo. Chiunque gli capiterà questa briciolina, chissà l'effetto che farà su lui. Beh, una briciolina la devo provare assolutamente, perché non vado a rovinare l'impasto senza prima vedere di che si tratta. Piccola briciola, vediamo. Questa qua. Mmm. Cavolo. Si sente come. E ha un retrogusto amaro. Tanto è forte il piccante. Sarebbe stata impossibile da mangiare tutta. Anche per me, che mi compro ogni giorno, ogni fine settimana, la pizza diavola super farcita. Questo è veramente ai limiti. E quindi direi che per questo impasto che ho qui di fianco, una piccola quantità, così, dovrebbe bastare. Andiamo subito a lavorarlo, così da inglobarne il contenuto. Piccola quantità. Sarà più che sufficiente. Fidatevi, è molto forte. Basta così. Che poi, quando lasciate l'impasto a riposare, lui diventa anche più facile da lavorare. Come se avesse già assorbito il suo, adempiuto il suo compito. Questo impasto poco fa era appiccicoso. Adesso, dieci minuti. Si è compattato. Ed è diventato lavorabilissimo. Allora, approfittiamo, chiediamo i guanti. Quindi, lo stendiamo bene. Facciamo più volte le stesse pieghe, perché vogliamo rinforzare la maglia glutinica. E andiamo ad aggiungere anche dei pomodorini e la cipolla, che daranno volume, massa e anche acqua. Quindi tornerà un pochettino meno lavorabile a un certo punto. Però, va bene lo stesso. Allora, andiamo a prendere allora i pomodorini e le cipolle. Eccole qua, le nostre cipolle. Stufate. eliminiamo l'acqua in eccesso, perché non ci serve, quindi le andremo a strizzare. Ne mettiamo un pochettino. Io forse ne ho fatte di più, ma non è un problema, perché andrò a fare altro per il pranzo. Quindi, un pochettino di cipolle, perché ne pizzo la cipolla. Anche quella bianca. Io avevo quella rossa, ma so che si usa anche quella bianca. È perfetta. Non troppa, perché poi resta tutta inglobata nello stesso punto. Però, va messa. Eccolo qua. Primo giro. Noi la stendiamo di nuovo. Vedete? Io la apro. Così. Altra cipolla. Sprezziamola. Queste cipolle le ho condite solo con sale, abbondante, perché nell'impasto non ne ho messo. E olio di oliva extravergine. Quindi, potete fare lo stesso anche voi. Che, insomma, il lievito è stato aggiunto alla farina, quindi il lievito ha bisogno di, sì, umidità, ma certo, non tanto sale. Ecco. Il peperoncino l'abbiamo messo. Abbiamo messo la cipolla. Adesso prenderò qualche pomodorino. Comodorini che mi stavo conservando per fare una focaccia, ma credo che mi avanzeranno. Li metterò, ecco, giusto un paio. Così. Li apriamo per bene, proprio per dare l'aspetto della rusticità a questo prodotto. Vedete che inizia ad aumentare di volume e si sente anche un pochettino più molle. Dobbiamo fare una lavorazione attenta, perché l'impasto tende a rompersi adesso per via degli ingredienti che abbiamo aggiunto. Mettiamo un'altra briciolina di peperoncino, proprio perché poi alla fine li devo mangiare io, quindi so che mi piacerà. Devo dire che è bello forte, eh. Complimenti a chi lo ha inventato, è stata un'ottima invenzione, però ragazzi non lo mangiate tutto insieme, perché è dura. Beh, ve lo posso confermare io, che sono un amante del peccante. Aspettiamo un poco, vediamo che l'impasto si assesti da solo. Ecco, andiamo un attimo a chiuderlo, così, e lo mettiamo da parte e prendiamo quest'altro, che invece va ancora un attimo lavorato. Io preferisco, dovendoli fare a mano, spezzarli sin dall'inizio, piuttosto che farlo dopo, perché poi l'impasto diventa difficile. Questo si è un po' spezzato perché la maglia glutinica non ce l'ha ancora. Ora andiamo ad aggiungere il peperoncino subito e poi lo lavoriamo qua. Eccoci qua ragazzi. Andiamo a prendere un po' tutto, quello che avevo per la patatina, e lavoriamolo. L'ideale sarebbe fare queste pieghe una decina o quindicina di volte, poi intervallandole con fasi di riposo. Mi raccomando, sempre nella stessa direzione. Quindi adesso questa di sotto sarebbe la direzione giusta, perché noi abbiamo sempre piegato in quel lato. Quindi o lo girate, vedete, e quindi poi fate così. Questa è una scelta obbligata in base al grado di idratazione dell'impasto, perché il grado di idratazione determina la maneggiabilità dell'impasto stesso. Più è umido, più la tecnica di lavorazione richiede un occhio per usare almeno le mani. Quindi si fa così, si fa così, ecco, piuttosto che capavolgerlo. Ma alla fine l'obiettivo è creare diversi strati, perché la maglia grottinica si sovrappongano gli strati e quindi si crei la maglia grottinica. E contemporaneamente noi andiamo a disperdere anche tutti gli ingredienti. Eccoci qua, ancora e ancora. Qua ci vuole calma, nessun problema. Se avete la calma vi esce un buon prodotto e vi divertirete anche con gli amici, perché è veramente una leccornia. il pizzo salentino garantito. Potete farlo anche dolce, senza il piccante. Hanno fatto anche quella variante poi. Però io lo conosco sin da piccolo con il cafferoncino. E devo dire che non c'è proprio paragone. Ecco qua. Già si sente più rappreso. Quindi ci dovremmo essere. Ho cercato di spostarlo più vicino alla telecamera per farvelo vedere bene. Ho fatto un bel ingrandimento. Siamo a due per. Quindi, ecco qua. Lasciamolo riposare un attimo. Ho già messo tutto, mancano solo i pomodorini. La cipolla. eccoci qua, un po' di cipolla che non basta mai da ragazzo la cipolla non mi piaceva, così come non mi piaceva l'aglio, poi sono diventato invece un amante dell'aglio in particolare e le sue proprietà, innumerevoli proprietà che è l'aglio, non smetto di decantarne i benefici e poi il sapore anche che mi ha conquistato però ho dovuto aspettare i 27-28 anni per poterlo apprezzare, perché il mio palato prima diceva no eccoci qua, che inizia a lacerarsi un pochettino e lo facciamo riposare vediamo, vediamo ora anche questo come va, che sembra essere più compatto ok allora lavoriamo così, facciamone 5, 6, 7 quelli che possiamo fare, che vogliamo fare e poi li lasciamo maturare e ci rivediamo al termine di questa lavorazione piccola parentesi sulla preparazione di un pane diverso utilizzando questa farina di pane nero abbastanza diffusa in Italia, nei supermercati si può preparare uno spredito pane all'aglio e soppressa veneta ho pesato 224 grammi di soppressa 5 spicchi d'aglio o 6 per chilo di pane la procedura di preparazione è identica al pane di semola che si fa con la cipolla che abbiamo visto già quindi salto tutta la fase dell'impasto per farvi vedere un risultato finale alternativo al pizzo salentino grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.